il sindaco De Rosa con il quale mi accomuno oltre che la militanza politica e soprattutto un'amicizia personale di cui sono orgoglioso come diceva il sindaco Guida questi momenti sono dei momenti di riscatto delle nostre terre ma soprattutto la cosa bella delle feste in unità, della festa democratica e con il contatto umano con le persone quindi una cosa che va al di là di quello che è il web, le dirette streaming le votazioni dei grillini su internet la cosa più bella è il rapporto umano, incontrarsi, parlare, discutere, affrontare quelle che sono le problematiche tante delle nostre zone ma soprattutto avere anche poi dei momenti di piacevole conversazione e di convivialità che dire, è stata una bellissima festa e con il mio saluto porto il saluto anche del mio territorio territorio che comunque è un territorio dell'Agua del Sano anche se è un pochettino più ad ovest ma è sempre l'Agua del Sano questa è la nostra terra e teniamocela stretta ma soprattutto vogliamola bene perché se la vogliamo bene, vogliamo bene noi e questo è il mio augurio ed è il mio saluto a tutti